Eccoci amici, stiamo tirando fuori le caccia annanze. Ecco le nostre caccia annanze. Facciamo sfumare un attimo. Vedete? Sempre bollente, è una dimostrazione, aspettiamo che si fredda. Questa è la mia caccia annanze. Che profumo! Niente, si può fare anche sul testo. Chi possiede una pietra rifrattaria nel forno di casa, la cuoce direttamente su pietra. Niente, vi saluto. Ci sentiamo a fine mese per un altro tutorial interessante. A presto!